Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il gol di Riccardo Meggiorini colpisce anche a ritorno, ripartenza fulminea della squadra di Rolando Maran. Meggiorini vorrebbe il falo, tutto regolare, un poco si gira, potrebbe calciare, prova un poco. La mira è alta. Inoltre il lungo lancio di Achite di testa, Paloschi al volo. Ha cercato il gran gol Alberto Paloschi. Attacca con Pisano il Cagliari, il cross in area, ciop! E' arrivato sul cross di Pisano. Non è riuscito a dare forza al pallone. Il Chievo quando riparte dà la sensazione di poter essere pericoloso. Ora con Schielotto il cross, secondo palo. Paloschi! E' riuscito a colpire, si è staccato bene dalla marcatura. Isco, ancora Schielotto, può andare al cross di prima, palla dentro, deviata a secondo palo. Etemai può mettere giù. Palla sul destro, le finte di Etemai, che sterza controfinta. Etemai calcia! Non è romesciato in avanti, c'è Diachite, Bizzarri, palla che resta lì, Conti, ancora Bizzarri. La ritrova, bravissimo, il portiere del Chievo. Schielotto. Cross in area, Burkic. E allora Etemai raccoglie la respinta dalla difesa del Chievo. Si dice fallo, e parima Etemai. Arriva un altro giallo, parte di Dibello. Monito Andrea Cossu. E là a destro, sul secondo palo. Burkic riesce a bloccare, senza Patemi. Raccolto poi il Chievo, il profallo. In arrivo, il cartellino rosso per Murru. Echdall può calciare la finta. Echdall, palla sul destro, ribattuta. Farias! Cagliari ad un passo dall'1-1. Pellissier, viene colpito da Cossu. Cossu è già morito. Secondo giallo, è rosso. Quattro minuti di retina. Palla dentro, troppo arretrata. La raccoglie però Pellissier. Può calciare Pellissier. In pancia Burkic. Destro di Farias deviato. Calcio d'angolo. Dibello dice che può bastare così. E scatena la festa del Chievo che blinda la salvezza in Serie A. Con il gol di Riccardo Meggiorini. Sconfigge il Cagliari.